Everything was good, grazie al dottor Piero Volpi e a tutto il personale medico di Humanitas Research Hospital. Stupendi! Questa è la didascalia di Simona Ventura sul suo profilo Instagram ad una foto pubblicata qualche ora fa in cui appare in ospedale per il figlio Niccolò. Gli utenti si sono subito preoccupati ma in realtà non c'è niente per cui allarmarsi troppo. Secondo quanto riporta il settimanale Novella 2000, Niccolò ha avuto un infortunio muscolare e per questo motivo è stato ricoverato in ospedale. Dai follower gli auguri di pronta guarigione. Per restare aggiornato sul gossip iscriviti al nostro canale YouTube e seguici sulla nostra pagina Facebook.